John Coltrane, Thelonious Monk, I Ten Years After, quella canzone che dice, I'd like to change the world, Rino Gaetano, una vecchia che salta con l'asta, David Bowie, quale David Bowie, David Bowie, Grand Control to Major Tom, oppure David Bowie, Eros, oppure David Bowie, L'O, eccetera, Pitagora, Pitagora, Empedocle, frammenti di Architas, Platone che va a studiare da Architas, Eraclide, Pontico che studia da Platone, quando Platone va in Sicilia a studiare, il Pitagorismo, Angelo Tonelli, Giorgio Colli e Mazzino Montinari, la nascita della tragedia, Apollineo e Dionisiaco, Giorgia Melò, Menconi e Giuliano Campioni, Iacono, Iacono, Gregory Batson, Gregory Batson quale? Gregory Batson, la schismogenesi in Naven, quando faceva l'antropologo in Nuova Guinea, oppure Gregory Batson, la cibernetica, studia la macchina di Turing, Enigma, Enigma, la criptosintesi, la criptologia, la criptoanalisi, la criptazione, il criptato, cripta, Ktonio, Ktonio, Karun, Gietrus, Gietrus, Karun, Blue, Karun, Blue, Avatar, 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 il sacrificio, Avatar, il sacrificio, Avatar, quando lei spiega a lui come si uccide un animale, il gesto, la sacralità del gesto, gli etruschi e i samurai, i samurai, Kill Bill, la spada, la spada villanoviana ad antenna, Ucraina, qui si rischia di perdere la strada perché Ucraina e ti viene tipo badante, amica, invece non è vero, oppure ti viene Ucraina Shevchenko, no, va bene, Shevchenko è già meglio di... è più chiaro Shevchenko, si capisce, no? Shevchenko Di Niepropetrovsk E poi la Crimea, il tempio, il tempio greco più a nord, anzi, l'unico tempio greco in Russia Crimea? No, da quelle parti, sul Mar Nero, c'è l'unico tempio greco rimasto in Russia, da quelle parti c'era una città che si chiamava Olbia, Olbia? Olbia non è un cervello Arnaud Arnaud, professore di Lione, scrive libri sulle rotte marittime degli antichi Devo assolutamente trovare il suo pdf Le rotte marittime dalla Catalogna all'isola d'Elbe Les chemins marittimes della Catalogna all'isola d'Elbe Je crois Je ne sais pas Derrida Foucault Baudelaire Le fleur du mal Quand le ciel bas e lourd Pèse come un couverc Spline è ideale A Edgar Allan Poe La lettera rubata Freud Di nuovo Derrida Heidegger Derrida, Artaud o Heidegger? Vota, vota Artaud o Heidegger? Heidegger Heidegger, tutta la vita Heidegger Heidegger